Festeggiano la scampata chiusura del plesso dell'infanzia a Teggiano-Capoluogo, le mamme che si sono date da fare negli ultimi mesi per scongiurare che i loro bambini, per un numero ristretto di iscrizioni, da quest'anno fossero costretti ad andare a scuola a chilometri di distanza in una delle altre frazioni del comune di Teggiano, con tutti i disagi relativi e l'impoverimento del centro storico. Le mamme Filomena, Paola e Simona brindano dopo che ieri mattina si è dato il via al nuovo anno scolastico nell'asilo del centro storico, con la benedizione del Vescovo di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca, che si è impegnato in prima persona in questa battaglia. Le mamme, di fronte al rischio che il plesso chiudesse, si sono date da fare superando i rimpalli tra le istituzioni e creando un dialogo affinché ognuno facesse la sua parte. Esprimiamo eterna riconoscenza al nostro Vescovo, hanno detto, grazie al consigliere regionale Corrado Matera, al sindaco Michele Di Candia, al consigliere indipendente con Antonio Delia e alla dirigente che ha accolto la nostra richiesta. Nella primavera scorsa si parlò di soli sei bambini iscritti e del rischio chiusura del plesso del centro storico di Teggiano. Le mamme, con in testa Filomena Coiro, organizzarono la protesta, il comune indisse a seguire un'assemblea e da lì partì un'azione continua e proficua, che ha portato oggi a raggiungere il numero minimo di dieci iscritti, facendo sentire di nuovo nella scuola il suono della campanella. Una scuola che chiude è un paese che chiude, ha commentato Domenico Antonio Delia tra i primi a denunciare la vicenda. Oggi questo è stato scongiurato. Alla collaborazione, al dialogo, alla fissazione dei giusti intenti, consegue sempre il raggiungimento di utili risultati.